Io ho preso da mio babbo, mio babbo aveva sempre una battuta, sempre una... Lui mi ha insegnato a ridere sempre, sempre, a ridere sempre. Io nasco cameriere, il suo... la sua eredità, il patrimonio che mi ha lasciato è questo. Lui diceva, quando sono contenti i clienti siamo contenti anche noi. Quando sono contenti i clienti siamo contenti anche noi. È una frase semplice perché mio babbo aveva fatto la terza elementare, però ha un grande contenuto. Vuol dire che la mia felicità è una felicità riflessa. Io non sono contento quando sono contento per me, ma quando gli altri che mi stanno intorno sono felici. Io sono... quando... lui diceva, quando... perché? Era il massimo del suo ragionamento. Allora, io oggi faccio il comico, faccio ridere, racconto delle storie da fare ridere. Ma prima di tutto racconto me stesso. La storia principale che racconto è la storia della mia vita. La storia del mio babbo, della mia moglie, dei miei figli, adesso anche del mio nipote, Tommaso. Perché mi hanno portato a scoprire che quando voi mi avete spinto qui, su questo palco, mi avete detto, Cevoli, non puoi rimanere lì, perché hai un talento, una fortuna. Hai il talento di essere un coglione. Devi... mia moglie mi ha spinto, è vero, è un coglione. Oggi faccio questo mestiere, scoprendo sempre, di volta in volta, assieme a tutta questa comitiva, che è proprio così. Che la cosa bella, come mi ha insegnato il mio babbo, che fino all'ultimo momento ha fatto delle battute, io mi ricordo il mio babbo, che è venuto a mancare sette anni fa, fino all'ultimo momento, il mio babbo ha fatto per dieci anni la dialisi, si è spento come una candelina, fino all'ultimo momento ha fatto battute. Era a casa nostra, a Riccione, e a un certo punto è arrivato il nostro prete, Don Giorgio, a dargli il viatico, l'estrema prete della nostra chiesa, della Santa Cattolica Apostolica Romagnola, che è una chiesa stagionale, diciamo che d'estate su certi peccati si tira via. Infatti lui dice sempre, peccato di pantalone, pronta soluzione, come dire, dai, non siamo lì a fare... E il mio babbo ha avuto il coraggio e la forza, a un'ora e mezza dalla causa che è andata in cielo, di fargli una battuta, anzi due, ha fatto due battute. Questa è la sua eredità, il suo patrimonio. Lui mi ha lasciato questa cosa, che anche di fronte all'ultima sfiga, che è la morte, si può dire una patacata, si può dire una battuta, che non risolve, perché non risolve, perché tu, comunque tutti abbiamo questo destino, purtroppo, speriamo... Però, come il mio nonno, a cui ho dedicato il film, che mi raccontava, quando abbiamo fatto la guerra, noi non la facevamo col muso, eravamo alpini, cantevamo, e siccome a cantare si asciuga la gola, bevevamo, ecco, anche le cose... Perché ridere quando le cose van bene sono capaci tutti, quando è successo ti... Ma quando le cose van male, per ridere, devi avere l'osso nella maletta. Come si dice, dalle nostre parti, la maletta è uno spagnolismo, parola romagnola, che è la sacca maronaria, la maletta, la borsa. Maletta vuol dire borsa, devi avere l'osso nella maletta. E quindi, devo dire, questa è la cosa che mi ha dato il mio babbo. Ridere, buttare lì una battuta, è lo stesso motivo per cui noi stasera abbiamo raccontato le barzellette, secondo me, per cui nascono le barzellette. Io ho fatto dieci anni a Zeri, dal 2002 al 2012. E appassionato di barzellette, Gian che è un grande appassionato, anche io, Pistocchi, Vasumi, e a tutti quelli che hanno fatto a Zeri, che dicevo sempre, a tutti questa domanda, hai mai inventato una barzelletta? L'hai mai inventata? Comici, autori, attori. Nessuno, neanche te, ha mai inventato una barzelletta. Allora, chi cazzo le inventa, le barzellette? Allora, secondo me, sono sorgive. Le barzellette sono gli angeli che vengono giù sulla terra, che a un certo punto vanno lì in un bar e dicono, la sciapete quella di quei due puttanoni? Prendono e volano via. È il motivo per cui le barzellette e la leggeressa si spandono. Quindi io mi auguro sempre di trovare, di fianco a me, perché io lo cerco, e ve lo auguro anche a voi, di trovare sempre un angelo che magari non lo risolve, però con un sorriso e una pataccata, vi fa vivere meglio. Grazie.